Quest'estate bikini, perché bisogna accettarsi, quindi c'è la pancetta, ce la teniamo, ci sono i bianchi, ce li teniamo. L'importante però è scegliere un costume che non segni e devo dire che triunfo è perfetto. Fate swap up per vedere tutti i loro bikini, intanto io vi faccio un bagno per voi. Ciao!